Ben trovati amici di Atlantide. Oggi è uscito un nuovo trailer di The Batman. Vi lascio esclusivamente alle immagini. Buona visione. La sua scuola è una scuola. La sua scuola è una scuola. Solo me e te. E questo significa qualcosa a te? La sua scuola è la sua scuola. Sei diventata una vera. La sua scuola è piaciuta. se sei giustice non lie qual è il prezzo per la sua blinde eye the hell are you supposed to be i'm vengeance this guy's crazy you're part of this too how am I part of this you'll see